Presso la Camera di Commercio di Cosenza si è svolta la serata conclusiva della prima edizione del premio giornalistico internazionale Terre di Calabria, provincia di Cosenza. Nel corso della cerimonia, dopo i saluti istituzionali del presidente dell'ente camerale Klaus Algeri e dei componenti della giuria, il vicepresidente dell'associazione Stampa Estera in Italia Martin Van Halderen, Federico Fioravanti, giornalista storico ed Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio Cosentina, si è tenuta la lettura degli articoli, la proiezione di contributi video e la premiazione dei giornalisti e l'intervento di alcuni imprenditori che hanno raccontato la loro esperienza e la storia della loro azienda. L'idea di questo premio era naturalmente rilanciare questa provincia, mentre rilievo questa provincia di Cosenza, che forse è ancora troppo sconosciuta. Adesso, grazie agli articoli, abbiamo visto che invece ci sono esperti del settore del turismo e dei mestieri che hanno messo in rilievo tanti aspetti bellissimi di questa provincia, quindi hanno veramente aperto anche i miei occhi e anche degli altri della giuria, e quindi direi un'immagine decisamente molto positiva. Voglio aggiungere che penso che sia un'ottima idea da parte della Camera di Commercio di aver preso questa iniziativa perché è un ottimo modo per far aprire gli occhi ai giornalisti e ai loro lettori. Abbiamo visto una bella partecipazione, è stato a volte difficile dire di no ad alcuni perché non potevamo dare un premio a tutti quanti, ma ci sono stati veramente bellissimi articoli da parte di Testata, anche importanti. Gli argomenti trattati sono stati molteplici? Devo dire che gli argomenti trattati sono molto vari, dipende anche dal settore, perché ci sono quelli del settore dei mestieri, ci sono quelli del settore, ci sono anche i video, naturalmente, poi ci sono quelli del turismo. Molto spesso, naturalmente, il patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche, per esempio, ci sono stati anche articoli sui sanzi, sui pellegrinaggi, ma anche su Maran, c'è un po' di tutto, devo dire. Soddisfatto il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algeri, per questa prima edizione. Organizzare questo premio internazionale giornalistico delle terre di Calabria e della provincia di Cosenza per far sì che si parla bene della nostra Calabria, dalle grotte di Papasidere fino a Reggio Calabria ai bronzi di Riace. Abbiamo grande bellezza e ci siamo riusciti, ci siamo riusciti grazie anche al Presidente della Commissione e anche a Federico, da Perugia, la giorno che rendono la Commissione. È solo una prima edizione, abbiamo avuto un successo enorme, abbiamo avuto 11 che hanno parlato del nostro territorio all'estero, da cui stasera ne premiamo 6.